Sono Maurizio De Bari, oggi siamo in compagnia di Nicola Savino che oggi ci presenta il suo nuovo programma. Parlacene un po', cos'è Tris per vincere? Tris per vincere è praticamente il Tris, quello che tutti noi abbiamo fatto a scuola, nell'ora buca, al lavoro, durante le riunioni, insomma, o su un vetro appannato, il famigerato Tris, quindi o il cerchio, lo vedi il cerchio, o la X, la vedi la X? Sono due concorrenti, uno al cerchio, l'altro alla X. Dove giocano? Su un foglio? No! Su un vetro appannato? No! Giocano lì, guarda lì, lì, su questo tabellone magico, è un condominio con nove inquilini. Ognuno sceglie il VIP da interpellare e a secondo dei giochi c'è magari la Celebrity che fa la domanda al concorrente o il presentatore che fa la domanda alla Celebrity. A riguardo volevo chiederti, entrare nelle case italiane, soprattutto con un format game, è comunque una grossa responsabilità? C'è qualcosa che ti spaventa o che non vedi l'ora di mostrare con questo nuovo programma? Allora, spaventare è una parola grossa, non stiamo operando a cuore aperto, ma diciamo che il paragone con gli illustri predecessori può incutere un certo terrore. Inoltre, se posso dire, anche il fatto che andasse in onda su un'ammiraglia, ecco, su Canale 5. Però noi, guarda, facciamo il nostro, noi non siamo un grande esercito, siamo un commando e a volte sono più insidiosi i piccoli commandi dei grandi eserciti. Tu fai anche radio, no? Sei ogni giorno in diretta su Radio DJ con il programma più ascoltato in Italia, praticamente. Cosa ti porti in televisione dalla radio e cosa porti in radio dalla televisione? In televisione dalla radio io spero di portare la prontezza, la velocità, insomma, essere pronto, ascoltare quello che mi dice chiunque, una terza persona, avere un pensiero e denunciarlo in maniera veloce, possibilmente. In radio, dalla televisione, forse qualche pausa in più, che in radio non si fa molto, no? In radio, noi veniamo da una scuola, quella dei disc jockeys anni 80, che parlava, parlava, riempiva tutto, e questo non è sempre un bene, secondo me, bisogna prendersi i propri tempi. Ecco, questa è una cosa che un po' la televisione mi ha insegnato e pensa, non ho fatto. Né teatro, teatro non ne ho fatto, cinema poco, insomma, ogni disciplina ha i suoi piccoli insegnamenti. Ti ringrazio gentilissimo e in bocca al lupo per il programma. Crepi il lupo, te, no, dite incrociate. Dite incrociate.